ora siamo all'undicesima riga da sopra per fare il tchum bisogna misurare il tchum deve essere in linea del principio e secondo le direzioni cardinali del mondo benché abbiamo studiato che non è assolutamente se la città è in diagonale non è la stessa direzione dei punti cardinali allora si può fare così ma normalmente se una città più o meno è nella direzione del mondo bisogna fare così adesso chiede a Mara come si fa a fare così spiega Mara che deve la parte diciamo setenzionale della città deve essere nella stessa direzione come il nord del mondo e ugualmente il sud naturalmente se una direzione già è predisposta allora normalmente tutto il resto già segue automaticamente è un segno per sapere com'è e dov'è il nord è la costellazione del zodiaco è la costellazione del zodiaco si intende il toro si sta nel nord sta abbastanza nel nord perché non è la costellazione la più nordica che è la stella la più a nord è la stella polaris la stella del nord che neanche non si muove e ci sono le due costellazioni della orsa minore e orsa maggiore che sono logicamente più a nord del toro la cravadrom è la coda dello scorpione che è la costellazione che sta più a sud di tutte le altre se non sa dove è il nord veramente è un edificio abbiamo detto c'è la stella polaris comunque dice Mara se non sa come dove è il nord o tutte le direzioni cardinali adesso iniziamo il processo per capire qui alcune cose ho fatto uno schizzo per capire questo soggetto per coloro che sono esperti che sanno come che significa equinozio solstizio e tutto questo forse loro non hanno necessità di questa spiegazione però iniziamo da capo ammettiamo che nessuno non sa niente cominciamo dall'inizio prima di tutto come vedete c'è scritto qui di sopra che questo si riferisce all'emisfero settentrionale la parte superiore della terra perché la parte meridionale è diversa comunque vediamo qui quattro elissi questa elissi rossa significa e rappresenta l'orizzonte di una persona diciamo che una persona si trova non ci sono montagne né alberi nulla ripete tutto l'orizzonte tutti i quattro diciamo che sta in mezzo al mare per esempio naturalmente l'orizzonte è completamente tondo però visto da lato è un'elissa e perciò questa elissa rossa rappresenta l'orizzonte di una persona una persona che vede però come abbiamo detto lateralmente ogni cerchio quando è girato diventa un'elissa adesso queste tre elisse nere non sono esattamente elisse ma diciamo rappresentano il movimento del sole sappiamo che è la terra che è girata nel sole ma ammettiamo che è il sole che la persona vede che il sole si muove ci sono tre questo è il nord e questo è il sud adesso questa qui questa elisse qui è la più alta di tutte perché rappresenta questo punto qui quando questa elisse si si incontra con l'elisse rossa che è l'orizzonte rappresenta l'alba quando spunta il sole e questo è il tramonto adesso vedete che questa parte è maggiore di quella parte inferiore la parte inferiore è più piccola perché la maggior parte del giorno questa rappresenta l'estate e questo è il sostizio estivo vuol dire così che il sole fa ha un movimento che inizia la persona che sta qui vede che sorge l'alba e il sole fa questo movimento e quando giunge giunge a questo punto il sole tramonta però il sole continua a girare e va dietro la terra fa questo moto però siccome ci sono più di 12 ore al giorno di estate allora la maggior parte di questo questa elisse è rivelata si vede che la persona vede e questo è il punto il più alto del sole diciamo del giorno del sostizio estivo vuol dire che il giorno che il sole giunge al punto più alto però come vedete questo è questa questa lissa è inclinata in questa direzione che è verso il sud è sempre così però a mano a mano che adesso cominciano e le giornate cominciano a diventare più corte il sole piano man mano è sempre parallelamente a questo forse hanno disegnato perfettamente veramente non è facile disegnare questo perché questa lavagnetta è molto scivolosa è difficile disegnare bene su questo comunque questa elisse rappresenta quando il sole giunge a un punto esattamente a est tra est e ovest perché ogni giorno mano mano che passano giornate e ci avviciniamo all'inverno questo momento del sole va sempre in questa direzione sempre verso sud e quando di inverno quando il sole fa il movimento che è il massimo verso sud che non va più a sud questo è il solstizio invernale vuol dire che è l'elisse la più bassa che c'è e la più vicina al sud anche come vedete se è abbassata e il tramonto scusi nell'alba inizia da qui e dura meno tempo il tempo che si vede il sole durante la giornata è più corto vedete e si collega con questa linea rossa che è il tramonto e scusi che è l'orizzonte che questo è il punto del tramonto cioè questa questa rappresenta il giorno più corto e man mano che le giornate diventano si allungano giunge questa e questo rappresenta il movimento solare il più lungo dell'anno cioè ci sono tutte le posizioni ogni giorno è una posizione diversa tra questa e questa però quando il sole giunge esattamente al massimo punto tra est e ovest allora questo è chiamato l'equinozio perché allora la lunghezza della notte è uguale alla lunghezza del giorno che questa parte dell'elisse con questa parte sono uguali e anche perché si congiunge esattamente al massimo punto tra est e ovest adesso il movimento solare ha un'inclinazione di normalmente di 23,44 gradi e questa inclinazione è sempre uguale non cambia che vedete questi piani dovrebbero essere paralleli forse non ho disegnato perfettamente però dovrebbero essere sono sempre nello stesso piano però parallelo uno all'altro e l'equinozio è sia per primavera sia per l'autunno è uguale la stessa posizione giunge la stessa cioè una volta in una direzione una volta quando va in questa direzione una volta quando ritorna in questa posizione e spero che sia chiaro credo che c'è tanto da aggiungere in questo momento giù questo rappresenta il massimo il movimento del sole la posizione più alta che c'è comunque sempre è più vicina a sud che a nord perché il punto è perpendicolare del centro dell'orizzonte è un certo punto qui già questo è inclinato leggermente in più oltre il centro potete vedere che d'inverno questa parte è molto più lunga che la parte superiore perché d'inverno si vede il sole dura meno di 12 ore perché la parte notturna che il sole fa dietro la terra è ben più lunga e questa è la parte più corta perché le giornate invernali sono più corte spero che tutto chiaro perché adesso lo concello questo e ci sono ancora alcune cose che devo spiegare adesso abbiamo presentato questa introduzione vedete che mi sta facendo questa cosa sarà facile dunque siamo a quattro righe da dove abbiamo iniziato oggi se non sa orientarsi e non sa le quattro direzioni cardinali del mondo può orientarsi secondo tkufà tkufà vuol dire stagione ma secondo l'orbita o il morto del sole che tzad in quale maniera chamayotza b'ayom arroch v'eshoqat b'ayom arroch e questo cercate di riferirvi al primo disegno che vi ho mostrato perciò il sole esce nel un giorno d'estate e cala anche un giorno d'estate e upneza fon è verso è più vicino al nord se vi ricordate chamayotza b'ayom cazano un giorno corto un giorno invernale v'eshoqat b'ayom cazano zeo p'nei d'arron è molto d'inverno invece se vi ricordate il sole è molto più vicino al sud tkufà di nissan di primavera è tkufà di sce l'idea autunno chamayotza b'chazi mizrach v'eshoqat o chazi maarab se vi ricordate e abbiamo l'equinozio che è esattamente il centro del punto più lontano nell'orbita e nel punto più nel punto più sforgente di est di ovest e allora in quel giorno anche le lunghezze del giorno della notte sono uguali shenema c'è scritto al versetto oleh el darom ve sovev el zafon quando il versetto dice oleh intende di giorno usa il versetto sull'espressione oleh che va el darom di giorno ve sovev intende di notte che di giorno va a sud e di notte va a nord se ricordate c'è questa inclinazione che non potete vedere ma comunque siccome ha un piano inclinato di sopra se vi ricordate dove si vede il sole cioè al di sopra dell'orizzonte che si vede il sole sta più vicino a sud però quando fa il giro di notte quando non si vede il sole nascosto è più vicino al nord quello che dice più oleh el darom ve sovev el zafon oleh el darom ve yom ve sovev el zafon balayla sovev sovev oleh el ruach elu pnei mizrach o pnei maharav pnei mizrach o pnei maharav vuol dire la faccia dell'est la faccia dell'ovest nel senso vi ricordate ho fatto ho disegnato un quadrante come un rettangolo al centro che sono questi punti sono terminati da dove il sole sorge e dove tramonta se vi ricordate ho creato una specie di rettangolo perciò ognuno di questi quattro lati è chiamata una panina una faccia come ho detto pnei mizrach pnei mizrach pnei maharav pnei maharav pnei maharav pnei maharav pnei maharav delle volte cammina e di giorno pnei maharav e delle volte e e pnei maharav mi ha detto che nel pondo è nascosto di notte quello che intende dire qui è così cammina maharav delle volte la maggior parte dell'orbita solare è esposta è rivelata perché di giorno quando i giorni sono molto lunghi e delle volte al contrario quando i giorni invernali sono molto corti è perché la maggior parte dell'orbita solare è nascosta è celata perché di giorno è molto corto poche ore e di notte è molto lunga la notte è molto lunga quello che intende dire qui amara miscarsia l'etnia o leane klale se ricordate ho fatto due schizzi due quadranti vi ho detto il secondo che è un quadrato preciso il secondo che lui dice l'etnia o leane klale non è d'accordo con queste regole perché se ricordate vi ho spiegato che il punto dell'alba e il punto del tramonto sono a una certa distanza dal punto centrale che collega tra est e ovest cioè quando il sole sorge e tramonta durante l'equinozio e la distanza non è enorme ma non è tale per creare solo un rettangolo però Ravishasha dice che no che dobbiamo andare secondo dobbiamo creare un quadrato e non un rettangolo il sole non è mai sorto perché quando lui dice che non è sorto si intende che non è sorto esattamente all'angolo infatti è molto più vicino a quella linea centrale che collega tra l'est e ovest che è la linea durante il giorno dell'equinozio grazie a Hamami che ha il misarchidromi che il sole non è mai sorto nell'angolo sud-est e tramontato nell'angolo sud-ovest intendere come già detto è più vicino al centro mentre invece lui ha disegnato che ognuno bisogna di vivere ugualmente tutte le quattro stagioni non le quattro stagioni voglio dire i quattro punti di riferimento quando quando il sole spunta e quando il sole tramonta sia il massimo d'inverno sia il massimo d'estate a ma smuel e ricordate che e vuol dire primavera nofelet e intende equinozio di primaverile e la barba e questo abbiamo qui ho fatto questo deve essere la domanda a ma smuel ed cofatt nissà nofelet è la barba e c'è quattro possibilità che può quando può accadere o bethkiratayom o all'inizio del giorno abbiamo qui il quinozio primo avverile ogni giorno alle 6 del mattino e o bethkiratayom oppure a mezzogiorno o bethkiratayom o bethkiratayom o bethkiratayom oppure le 6 di mezzo e mezzo alla sera scusi bethkiratayom intende bethkiratayom a mezzanotte trilatayom vuol dire le 6 di 6 di sera o chetseayom e mezzogiorno o 3 di o alle 6 di mattino sì e poi ente kubatayom tammuz ne felet ella o bechatu merza tammuz è solstizio estivo o luna e mezza o beshao o scevo merza oppure sette e mezza ben bayom e balayna sia di giorno sia di notte abbiamo detto di giorno di notte l'equinozio autunnale o abbiamo così ob shalom shaoth che sono le 3 di mattino o betesha shaoth ben bayom e melayna cioè le 3 sono sia di giorno sia di sera oppure questo scusi questo è il poveriggio le 15 pm sono tre oppure alle 9 sia di giorno sia di notte sia di mattino sia di sera poi ente fatte vett ma feller abbiamo adesso solstizio invernale e la be alba o merza oppure le 4 e mezza o be es o merza oppure 10 e mezza sia di giorno sia di notte abbiamo qui 4 e mezza 4 e mezza 10 e mezza e vant tkufa vant tkufa le tkufa vant vant tkufa le tkufa ila 91 yom v7 santo mezza come potuti se nio no vantù giorni esse teore mezza vant tkufa moshechet mihavertè la chatzisha per spiegare questo è intende siccome ci sono sette astri e ci sono sempre sette ore e mezzo in più e perciò questi sette astri devono divirsi tra loro sette ore e mezzo perciò abbiamo sette ore e sette astri e rimane mezz'ora che questa ora questa mezz'ora viene occupata alternativamente ogni secondo volto ogni volta e adesso vi spiego subito solo per terminare questo amut vant la stagione primavera c'è un fede che cade nel periodo di dominio di Giove che non franto negli alberi vant la stagione invernale che cade nel periodo di dominio di Giove che non causi la siccità che tutti i semi si asciugano si seccano e questa è però condizione che il molà della luna è nel periodo di dominio o della levanà stessa o nel periodo di dominio di Zedek adesso ci sono sette sette pianeti tra loro la luna e il sole che hanno ognuno ha un dominio per una certa ora ogni ora del giorno uno dei sette pianeti ha un dominio per una certa ora allora fa notturno sette ore e poi ricominciano però come abbiamo detto siccome sono sette ore e mezzo allora ogni tanto ogni seconda ora deve essere l'altro pianeta che viene dopo successivamente ha un dominio durante l'ora un'ora entra già in vigore prima del suo tempo a casa di questa mezz'ora questa differenza di mezz'ora adesso ogni sette ore c'è un dominio di un'ora di un pianeta quando terminano le sette ore ricominciano da nuovo da capo e così via e perciò quello che dice qui che quando cade il Tkufat Nisan inizia la stagione primaverile che cade nell'ora che in quel momento Giove governa allora succedono dei guai che distrugge gli alberi voglio farvi vedere qualcosa adesso non c'è un ruolo non c'è non c'è un ruolo che non c'è un ruolo che non c'è un ruolo che dice così, proprio all'inizio di Se'i Siman Reshain Aleph, che il titolo di questa il titolo di Dinei Kiddusha al Iyai, di Shabbat dice, il bayere tev così il primo il primo siman, qui è, il siman Aleph, che si avvò l'abbiato, immaginare l'echol miad, quando viene a casa, viene a dire, dopo la tepilà deve mangiare subito dice, il bayere tev, perché delessi, con il segno di istorale finiscono che ci sono chieste, anche se è giusto, un titolo di Cicurati lui, il segno di Diccio diccio, l'accholmai Ad, che diccio, miadro che miagano di Cicurati e che miagano a vedere inirecibili il Chabbat di C'è questo Diccio, scrive in Diccio, di Diccio, il libro di Diccio che si scost confermò che le Diccio diccio che passano, come il deccio che il Diccio che è infatto, prima delle le newte. perché inizio di Diccio, la Diccio che aveva a scorgato perchè di Diccio di venerdì sera quando inizia il Shabbat è il Masal Mahadim, governa il pianeta Mahadim, cioè Marte e qui dice Samah, cioè non dico la parola intera, Samer Mev, si intende il Satan, che non governano, come il governatore del Masal Mahadim, di Marte, e alla fine, l'ultima ora di venerdì, prima di Shabbat, che non governano, e si chiama Tzadkiel, e sono due i malachi, un Rav e un Toc, uno buono e uno che ti va, perciò che faccia il Kiddush quando governa il Kiddush, oppure che attenda un'ora, che passi il governo di Mahadim, di Marte, e faccia il Kiddush dopo di questo, dopo un'ora. E vabbè, dopo continua diverse cose, questa è anche l'opinione di Maghira Brahe, potete vedere il Shohan Rokhs, normale, anche Maghira Brahe, e Reish Ein Aleph, proprio subito all'inizio. Bene, adesso portiamo il DAF, siamo Amut Bet, abbiamo studiato questo, che se la città non è completamente quadrata, allora la squadra crea una linea immaginaria per creare un quadrato oppure un rettangolo, che tutti siano quattro righe immaginarie rette e ad angolo retto, cioè a 90 gradi. e dopo questo, lui crea il tachum, cioè di due mille ammott, tutto il torno, come un altro quadrato, rettangolo, più grande. La fa quadrata, nel senso che tutti gli angoli sono retti. E adesso ci saranno parecchi disegni da fare. Adesso, vediamo ovviamente qui, questo è l'orizzonte della persona, che è disegnato invece di, visto lateralmente, che non è un cerchio, è un'elissa. Adesso questo rappresenta, questo punto rappresenta l'alba nel punto più sud possibile. Quando è questo? Di verno o di estate? Ve ho visto che di verno, di verno il sole è più vicino al sud possibile. Questo è il momento dell'alba, e questo, questo è il tramonto. Adesso veramente si potrebbero collegare queste linee. Ho dovuto collegarle. Così. Questo è il momento, nuovamente, dell'alba, del giorno più corto possibile, e questo è il tramonto. E questo è il giorno più lungo possibile, l'estate. L'alba, che sta più vicino al nord, e questo è il tramonto. Adesso, invece di disegnare un'elissa, disegniamo un cerchio. E disegniamo questi quattro punti. L'alba, del giorno più corto, è più vicino al sud. E questo è il tramonto. Arti rappresenta il tramonto. E qui, nel giorno più lungo, questa è l'alba, e questo è il tramonto, che sono più vicino al nord. E poi colleghiamo queste linee tra loro. E riceviamo le quattro direzioni cardinali del mondo. Anche se non sappiamo, non abbiamo compasso, perché a quei tempi non conoscevano compasso ancora. Per fortuna che ho udito questo video nuovamente, mi sono accorto che ho sbagliato, che ho detto, ho usato la parola compasso, perché in inglese si chiama compasso per compass, per bussola. Intendevo dire bussola, ma mi sono confuso con l'inglese, perciò adesso correggo. Quello che ho detto compasso, intendevo bussola, e non compasso. E diciamo che una persona non sapeva nulla. Però può fare questo, può indicare a sé questi quattro punti, dove si trovano. E così ha le quattro direzioni del mondo. Vediamo che la camera adesso cerca di spingere questo, che dice, Rami Sharsha dice, no, invece di disegnare così, dove i punti, perché, se vedete questo è più stretto, perché, veramente, questo è il punto questo è il punto a est, questo a ovest. Questo è il punto dell'equinozio, quando i giorni e la notte sono uguali, che esattamente nel punto dell'est, quando si collega il sole, viaggia dall'est a ovest, nel punto massimo dell'est a ovest. viene Rami Sharsha e dice, no, invece di fare questi, questo disegno rappresenta la realtà. viene Rami Sharsha e dice, no, dividiamo invece le quattro direzioni ugualmente, che ogni lato di questo, che non sia un rettangolo, sia un quadrato così, e dividiamo il circo in quattro, invece di dividerlo così. Vediamo la camera, ora chiederà questa domanda, comunque, ricordate che questa è la spiegazione, quello che dice, Rami Sharsha. Adesso vi faccio una domanda, la domanda è rivolta, a chi è un asso in questo aspetto della terra, dei movimenti della terra. Quanti movimenti ha la terra? Sappiamo che la luna ha tre movimenti, e la terra, essenzialmente sappiamo che la terra gira attorno al sole, e gira attorno a se stessa. e perciò normalmente uno direbbe che la terra ha due movimenti, ma la verità è che ci sono quattro movimenti. Questi sono i movimenti in più. Diciamo che questa è la terra, e questa è l'asse della terra, che normalmente ha 23,44 gradi, più o meno, però la terra subisce altri movimenti, perché veramente la terra, questa inclinazione dell'asse della terra cambia, varia, e crea un cono con il tempo. Non è molto rapido, ma con il tempo la terra non si gira esattamente attorno al proprio asse, perché ci sono influenze, perché il sole attrae la terra, e anche ci sono influenze della luna che attrae la terra, e perché l'attrazione non è dal centro di gravità della terra, bensì c'è uno spostamento, non è esattamente il punto di gravità della terra, e anche perché la forma della terra, i due poli sono un po' appiattiti, perciò c'è questo movimento, spero che avete capito, come una trottola, che quando uno la tocca mentre gira, e comincia a guastarsi in movimento, che comincia a pirouettare, invece di girare attorno a se stessa, comincia a girare così. Però c'è un altro movimento ancora, che si chiama momento di nutazione, che veramente è quando la terra, l'asse della terra gira così, non gira esattamente in un cerchio, bensì ha questo movimento, che va così, come dei dentelli, e questa è anche la ragione, come abbiamo spiegato prima, a causa del del centro di gravità della terra, e del fatto che i poli sono appiattiti, e questa è la ragione principale. questi movimenti della precessione, della notazione che abbiamo menzionato, non sono stati scoperti grazie alla scienza moderna, questo movimento di precessione era conosciuto già dal tempo di Parco di Nicea, circa 130 anni prima dell'era attuale, e il movimento di notazione è conosciuto già nel tempo di Copernico e fu calcolato da Isaac Newton, perciò sono cose già abbastanza antiche. Siccome l'anno solare e la durata dell'anno solare sono 865 giorni e 6 ore cioè un quarto di giorno e 52 settimane sono 364 giorni perciò oltre 52 settimane c'è un giorno e un quarto in più per oltre le 52 settimane perciò se un certo anno la primavera inizia a viv inizia mercoledì alle 6 pm il seguente anno il secondo anno bisogna aggiungere un giorno e 6 ore e perciò la primavera inizierà giovedì a mezzanotte e il terzo anno aggiungiamo un giorno e 6 ore a questa data e sarà venerdì alle 6 del mattino e il quarto anno sarà di sabato a mezzogiorno e un'altra cosa che viene a sapere che Tkufat Shmuel è il modo di calcolare gli anni è un metodo di Shmuel della Gomorra la lunghezza del giorno dell'anno è l'anno solare sono 365 giorni e 6 ore e un altro metodo di calcolo che è chiamato Tkufat Travada che è di 4 minuti e mezzo meno della lunghezza dell'anno solare secondo Shmuel abbiamo visto che secondo Shmuel l'anno solare dura 365 giorni e 6 ore che sono 365 e un quarto dividiamo ciò in 4 per sapere la lunghezza di ogni stagione e abbiamo 13 settimane e 7 ore e mezzo dice Shmuel che Tkufat Tsan cioè l'equinozio primaverile può succedere solo può accadere solo durante una di queste 4 possibilità sia alle 6 di pomeriggio oppure mezzanotte oppure vedete alle 6 del mattino oppure a mezzogiorno l'equinozio l'equinozio che si chiama in ebraico Tkufat Tevet scusi Tkufat Tishre perché in ebraico si dicono le stagioni secondo il mese in quale accade vedete vedete o le 9 del mattino o le 13 pomeriggio o le 21 di sera o le 3 del mattino sostizio invernale che è Tkufat Tevet 4 e mezzo pomeriggio o le 10 e mezzo di sera 4 e mezzo del mattino o 10 e mezzo del mattino e sostizio estivo vedete l'1 e mezza del mattino 7 e mezzo mattino 13 e mezzo pomeriggio e 19 e 30 della sera adesso abbiamo presentato questa introduzione vedete che mi sta trascendo questa cosa sarà facile dunque siamo a 4 righe dove abbiamo iniziato oggi se non sa orientarsi e non sa le 4 direzioni cardinale del mondo può orientarsi secondo Tkufat Tkufat vuol dire stagione ma secondo l'orbita o il moto del sole che zad in quale maniera e questo cercate di riferirvi al primo disegno che vi ho mostrato perciò il sole esce nel un giorno d'estate e cala anche un giorno d'estate e è più vicino al nord se vi ricordate se vi ricordate e abbiamo l'equinozio che è esattamente il centro del punto più lontano nell'orbita nel punto più nel punto più sforgente di est di ovest e allora in quel giorno anche le lunghezze del giorno della notte sono uguali c'è c'è scritto il versetto quando il versetto dice intende di giorno di giorno usa il versetto sull'espressione che va eldero di giorno verso veve intende di notte che di giorno va a sud e di notte va a nord se ricordate c'è questa inclinazione che va non potete vedere ma comunque siccome ha un piano inclinato di sopra se vi ricordate dove si vede il sole cioè al di sopra dell'orizzonte che si vede il sole sta più vicino al sud però quando fa il giro di notte quando non si vede il sole è nascosto è più vicino al nord quello che dice più vuol dire la faccia dell'est la faccia dell'ovest nel senso ricordate ho fatto ho disegnato un quadrante come un rettangolo al centro che questi punti sono terminati da dove il sole sorge e dove tramonta se vi ricordate ho creato una specie di rettangolo perciò ognuno di questi quattro lati è chiamato una panem una faccia come ho detto panem ma la dan u panem sa la dan delle volte cammina e di giorno quando è nascosto di notte quello che intende dire qui è così panem ma la dan delle volte la maggior parte dell'orbita solare è esposta è rivelata perché di giorno quando i giorni sono molto lunghi e delle volte al contrario quando i giorni invernali sono molto corti è perché la maggior parte dell'orbita solare è nascosta è celata perché di giorno è molto corto poche ore e di notte è molto lunga la notte è molto lunga quello che tende a dire qui amara misharshia l'etnia o leane klale se vi ricordate ho fatto due schizzi due quadrati vi ho detto che il secondo che è un quadrato preciso il secondo che lui dice l'etnia o leane klale non è d'accordo con queste regole non è d'accordo che il sole non è mai sorto nell'angolo nord-est sicuricato nell'angolo nord-ovest intendo dire perché se vi ricordate vi ho spiegato che il punto dell'alba e il punto del tramonto sono a una certa distanza dal punto centrale che collega tra est e ovest cioè quando il sole sorge e tramonta durante l'equinozio però la distanza non è enorme ma non è tale per creare solo un rettangolo però Ravishasha dice che no che dobbiamo andare secondo dobbiamo creare un quadrato e non un rettangolo il sole non è mai sorto perché quando lui dice che non è sorto si intende che non è sorto esattamente all'angolo infatti è molto più vicino a quella linea centrale che collega tra l'est e ovest che è la linea durante il giorno dell'equinozio il sole non è mai sorto nell'angolo sud-est e tramontato nell'angolo sud-ovest intendere come già detto è più vicino al centro mentre invece lui ha disegnato che ognuno ha bisogno di vivere ugualmente tutte le quattro stagioni non le quattro stagioni voglio dire i quattro punti di riferimento quando il sole spunta e quando il sole tramonta sia il massimo d'inverno e sia il massimo d'estate ricordate che il quattro stagioni vuol dire primavera il quattro stagioni intende equinozio di primaverile e questo abbiamo qui ho fatto deve essere la domanda abbiamo chiesto c'è quattro possibilità quando può accadere o all'inizio del giorno abbiamo qui o all'inizio del giorno alle sede del mattino oppure a mezzogiorno o a mezzanotte o a mezzanotte oppure alle sede mezzo alla sera scusi mi chiesti a lei la intende chiesti a lei la è mezzanotte trillata lei la vuol dire alle sede poi sei di sera o chiesti a iom e mezzogiorno o a tre di aoma alle sede del mattino sì e poi entro qua tamuz no felet ella o beccato merza tamuz è solstizio estivo o a luna e mezza o becciao o scevo merza oppure sette e mezza ben baion ben baena sia di giorno sia di notte come abbiamo detto di giorno e di notte entro qua ti srei no felet ella proviamo l'equinozio autunnale o abbiamo così che sono le tre di mattino o betesha sceot ben baion ben mele cioè le tre sono sia di giorno o sia di sera oppure questo scusi questo è il povericcio le 15 pm sono tre oppure alle nove sia di giorno sia di notte sia di mattino sia di sera poi abbiamo adesso solstizio invernale e la be' abba o mezza oppure le 4 e mezza o be' essere o mezza oppure 10 e mezza sia di giorno sia di notte abbiamo qui 4 e mezza 4 e mezza 10 e mezza non Non avevo una settimana per noi, ma era una settimana per noi, per noi una settimana per noi. Come... Quanti giorni ho avuto. sette ore e mezzo vent kufa moshechet mi chavartei lachatisha per spiegare questo è intende siccome ci sono sette astri e ci sono sempre sette ore e mezzo in più e perciò questi sette astri devono dividersi tra loro sette ore e mezzo perciò abbiamo sette ore per sette astri e rimane mezz'ora che questa ora questa mezz'ora viene occupata alternativamente ogni secondo volto ogni volta e adesso vi spiego subito solo per terminare questo ammuth la stagione primavera c'è una fede betzedek che cade nel periodo di dominio di e la siccità che tutti i semi si asciugano si seccano vuoi tiallet levana e questa è però condizione che il molal della luna è nel periodo di dominio o della levana stessa adesso ci sono sette sette pianeti tra loro la luna e il sole che hanno ognuno ha un dominio per una certa ora ogni ora ogni ora del giorno uno dei sette pianeti ha un dominio per una certa ora allora fanno turno sette ore e poi ricominciano però come abbiamo detto siccome sono sette ore e mezzo allora ogni tanto ogni seconda ora deve essere l'altro pianeta che viene dopo successivamente ha un dominio durante l'ora un'ora entra già in vigore prima del suo tempo a casa di questa mezz'ora questa differenza mezz'ora adesso ogni sette ore c'è un dominio di un'ora di un pianeta quando terminano sette ore ricominciano da nuovo da capo e così via e perciò quello che dice qui che quando accade il Tkufat Nisan inizia la stagione primaverile Shinofele Vezede che accade nell'ora che in quel momento Giove governa allora succedono dei guai Shinofele Vezede e il mio fricolico è un'ora che è un'ora è un'ora che è un'ora è un'ora che è un'ora di Giml di Mishina Bura Rish 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 scusate, no, Resh Ayn Aleph che dice così proprio all'inizio di S.I.V. Siman Resh Ayn Aleph che il titolo di questo S.I.V. è Dinei Chidush Alayai di S.I.V. dice il primo il primo qui è il primo che quando si arriva a lui la mia moglie la mia moglie quando viene a casa viene a dire che dopo la tepilità deve mangiare subito dice il primo perché il primo è la mia spiegazione non c'è la mia spiegazione non c'è la mia spiegazione non c'è la mia spiegazione dice così questo dice dice c'è la mia spiegazione dice c'è la mia spiegazione allora che che governa il pianeta Mahadim, cioè Marte, e qui dice Samah, cioè non dico la parola intera, Samahmeh, si intende il Satan, Mushelala, che lo governa, che è il governatore del Mazzal Mahadim, di Marte, e alla fine, l'ultima ora di Venerdì, prima di Shabbat, governa cedè, che dove, e l'angelo, che lo governa, si chiama tzadkiel, e sono due malachim, un Rav e un Tò, sono due Angeli, uno buono e una cattiva, perché faccia il Giddus quando governa il Giddus, oppure che attende l'onora, che passi il governo di Mahadim, di Marte, e faccia il Giddus dopo di questo, dopo un'ora, e vabbè, dopo continua diverse cose, questa è anche l'opinione di Maghain Abra, potete vedere il Shofranroch, normale, anche Maghain Abra, e Resh Ein Aleph, proprio subito all'inizio, bene, adesso votiamo il DAF, siamo a Muzvet, abbiamo studiato, abbiamo studiato questo, che se la città non è completamente quadrata, allora la squadra crea una certa, una linea immaginaria per creare un quadrato oppure un rettangolo, che tutte siano quattro righe immaginarie rette e ad angolo quadrato, ad angolo retto, cioè a 90 gradi, e dopo di questo lui crea il tchum, cioè di 2000 mot, tutto attorno, e come un altro quadrato rettangolo, più grande, la fa quadrata, nel senso che tutti gli angoli sono retti, che non misure, questa è la città, che non misure 2000 mot, così in diagonale, perché allora perde gli angoli, abbiamo detto che in diagonale, agli angoli lui guadagna 800 mot, da ogni lato, perciò dice, l'ho immaginaria a creare un paio mamma, non è che dice, mette una tavola di 2000 mot, non esiste, intende dire che crea questa forma, un uomo in Kha, ma cheren ba'alaksona, in zeta'ir, mi staccera, albamot a'ma le kan, ma albamot a'ma le kan, che guadagna in diagonale 400 da ogni lato, e perciò 800 in totale, in zeta'ut khumin, mi staccera, 600 mot, perché guadagna 800 amat, in totale, in ogni diagonale, perciò dice, Mr. Green, è molto molto lato le kan, o è molto lato le kan, non si usano le si usano a creare un uomo in Mr. Green, se l'ho immaginaria, o lho immaginaria le kan, e lho immaginaria le kan, intende dire che se fosse questo, fosse tondo, che se la città fosse tonda allora guadagnerebbe qui anche 400 mot quindi 800 più 400 sono 1.000 e 2 quello che diceva come ora inizio a ieri troviamo inscritti 1100 e 1100 leccan e 1100 leccan e questo è quando c'è una città che ha 2.000 mot in diametro dice 2.000 per 2.000 ma si intende in cerchio si dice diametro la Torah dice che le città dei Levi devono avere una misura di dimensione di 2.000 mot per 2.000 mot e poi al di fuori di questo devono avere una zona per una distanza di 1.000 mot completamente vuota senza non ci si metteva niente lì ne si faceva crescere nulla e dopo queste 1.000 mot c'era ancora una zona tutta attorno alla città anche di 1.000 mot di profondità cioè in profondità davanti verso dietro di larghezza potete dire nelle quali piantavano fruttetti o di verdure o qualsiasi cosa che volevano perciò dice nuovamente e dice adesso la camera cercherà di dimostrare farà diversi conteggi per cercare di dimostrare che qui dice che il migrash è un quarto un quarto di che? non sappiamo la camera cercherà di fare i conteggi e vedere come si arrangia questo quarto minanemire amarrava ed amarkra mi kira il vechuzza elefama saviv che la questa città deve avere 1.000 mot tutto intorno e amratora savivetair be'elef che tutto intorno deve avere una zona che ha 1.000 mot di profondità bianemire ma e perciò migrash è un quarto ovvero chi agmarà rivea paga ave' questa è una città di Levi che è 2.000 mot per 2.000 mot e poi c'è tutto intorno una spazio vuoto che ha 1.000 mot di profondità di larghezza e oltre questa c'è ancora una altra zona anche di 1.000 mot per piantarsi diverse piante. Chiagmarà ti dice questo quarto non è un quarto, è mezzo, metà, questo è metà di questo, veramente non è esattamente così, è di meno, non è meno della metà, questa zona è più grande di questa, è più lunga, tutto attorno. Non può essere della metà, come ha detto Chagmarà, è impossibile, e comunque qui adesso Chagmarà cercherò di dimostrare, di fare un conto per dimostrare che è un quarto, comunque metà non è un quarto. Dice Chagmarà che un perito albimensore chiamato Barada me lo spiegò. Chagmarà l'abbemata dà via tre alfe a tre alfe, qui abbiamo una città di Levin di duemila per duemila, sono quattro mila e duemila sono quattro milioni cubi di quadrati. Adesso Trum Kamabi, Shitzar, il Trum quanto è tutto attorno, intende dire abbiamo qui un quadrato due mila cubiti, duemila per duemila, che sono quattro milioni e cubiti quadrati, e qui abbiamo un altro, abbiamo quattro qui, uno, due, tre, quattro, che sono sedici milioni cubiti quadrati. Poi dice, Kranot Kamabian, Shitzar, anche gli angoli sono, abbiamo quattro angoli, che ciascuno ha, due mila per duemila, che sono quattro mila cubiti, scusi, quattro milioni, per quattro sono sedici milioni cubiti quadrati, sedici, sedici, sedici sono trentadue milioni cubiti quadrati. Dal tamani di Tchumin, ve arba de Kranot Kamabian, tre seri. Adesso togliamo questa zona qui, questa zona non, abbiamo così, abbiamo così, due mila per mille, che sono duemila, abbiamo quattro, che sono otto mila, e abbiamo quattro angoli, ogni angolo è mille per mille, che sono quattro, quattro e otto sono dodici, sono dodici milioni cubiti quadrati, perciò abbiamo dodici milioni cubiti quadrati, diviso per trentadue milioni cubiti quadrati. chiediamo ora, l'inizio migrata arriva, il migrata è un quarto, chiediamo ora, come fai a chiedere una cosa così, tre milioni cubiti quadrati è più di un terzo, dodici per trentadue è più di un terzo, chiediamo ora, prendi i quattro milioni cubiti quadrati della città stessa, e aggiungili ai trentadue, trentadue milioni, sono trentasei, faccio adesso, invece di essere trentadue, sono trentasei, va bene. Sì, ma dodici diviso per trentasei, sono tuttavia un terzo, non è un quarto? Come si è arrivato a un quarto? Dice come ora, mi serve per il buo a chiamare, per il buo a chiamare. Ah, ti sbagli, non si tratta qui, di una città quadrata, duemila per duemila, una città è una città tonda. Adesso, abbiamo qui, la città che è tonda, che ha un diametro di duemila amot, e abbiamo intorno alla zona aperta di duemila amot, di larghezza, però è un cerchio, cioè, è un anello, veramente, non è un cerchio. È un anello attorno a un cerchio. Adesso, dice come ora, Khazal facevano i conti approssimativi che un quadrato è più grande di un cerchio e che un cerchio rappresenta tre quarti di un quadrato. Perché loro facevano il conto che P è 3, non è 3,14, bensì 3. E siccome abbiamo, se abbiamo un quadrato 2 per 2, che è 4, e abbiamo un cerchio dentro che è di 2,2, di diametro, loro facevano il conto che il cerchio è di 3. Perché abbiamo il raggio 1, e P è 3, cioè, 1 per 3 è 3. Naturalmente è un po' di più, ma così facevano Khazal e approssimativi. Adesso, perciò, dice che abbiamo detto che il perimetro attorno alla città, il perimetro aperto, vuoto, che non è coltivato, sono 12 milioni. Giusto? Perciò dice, togli un quarto, scusate, un quarto. Ho detto che un cerchio è un quarto meno. Perciò, un quarto, togli un quarto dai 12 milioni, rimangono 9 milioni. e poi, diciamo qui, nuovamente, un quadrato è più grande di un cerchio, di un quarto, dal vuol dire togli, riduci, dal revia a Minayu, togli o riduci il quarto, dai 12 milioni, Pashu, Pashu vuol dire rimangono, Pashu, le U, Tisha, rimangono 9, 9 milioni. Vethisha, Mitlatin, Cita, arriva a Ve, allora, il conto è giusto, perché 9 diviso per, 9 milioni per, diviso per 36 milioni, è un quarto, perciò, il conto è giusto, torna bene. Abbaia Ma'al-Mashka'al-Namibimata, dice Abbaia che è vero, però c'è un altro caso, che per esempio, se la città è di mille amot, per mille amot, facciamo un disegno, dunque, abbiamo una città di mille per mille, al centro, e attorno abbiamo questa zona, di anche mille di larghezza, e abbiamo, vediamo che abbiamo, otto quadrati, che sono, otto milioni di cubiti, e tutta la zona coltivata, tutto attorno, vediamo sono, 16 milioni di cubiti, e ciò dice come la, Abbaia Ma'al-Mashka'al-Namibimata, da via alfa be alfa, sì, abbiamo una città di mille per mille, trumin kamavu, tamania, trumin quanti sono? otto, vero? otto, kranot kamave, shizar, tutto attorno abbiamo 16, perciò, otto e 16 in totale sono 24, adesso, dal arba di trumin, ve arba di kranot kamavu, tamania, qui abbiamo otto, in totale abbiamo, sedici più otto sono 24, otto diviso per 24, sono un terzo, chiedi kamavu, teltavu, è un terzo, non è un quarto, 10 kamavu, cioè, Abbaia, mi saprà, birri bua kamavu, te pensi che stiamo parlando di un quadrato, no, è piccolo kamavu, si tratta qui di un cerchio, tondo, facciamo adesso il disegno intorno, dunque, abbiamo qui il tondo, abbiamo qui, il cerchio di mille, la città di mille, abbiamo qui la zona aperta, che è anche mille di larghezza, adesso 10 kamavu, kamam rubai eter alaigul, un quadrato, di quanto è più grande di un cerchio? Revia, un quarto, dal Revia, togli un quarto, dagli otto, avevamo prima otto, togli un quarto da otto, quanto rimangono? Sei, perciò dice, passe l'uscita, rimangono sei, di ventiquattro è un quarto, allora il conto è giusto, perfetto, Ravina Mar, mai Revia, Revia di Trumil, Ravina dice, che in questo caso, si tratta così, che abbiamo, una città, di duemila per duemila, adesso Ravina fa il conto, solo di questa zona, questo che tende con un quarto, come? Siccome abbiamo, da qui fino a qui, abbiamo duemila, perché, che abbiamo mille, più mille sono duemila, ugualmente all'altro lato, da tutti i lati sono duemila, adesso, abbiamo, dunque abbiamo duemila qui, la città, da qui fino a qui, duemila, la città stessa è duemila, e duemila da qui fino a qui, sono in totale sei mila, perciò sei mila per sei mila, sono trentasei milioni, cubiti quadrati, adesso, la città stessa è, quattro milioni cubiti quadrati, perciò, trentasei, meno quattro milioni, sono trentasei milioni, cubiti quadrati, adesso, lui fa il conto che, quello che tende con un quarto, è solo queste quattro zone, qui sono ciascuna duemila, per mille, giusto? duemila, larghezza città, la profondità è sempre mille, questo non cambia mai, perciò, ognuno di questi rettangoli è, duemila, per quattro sono otto mila, otto mila, eh scusi, otto milioni, scusi, otto milioni, diviso per trentasei milioni, un quarto, faccio il conto giusto, perfetto, dice come no, Ravashiamar, mai rivea, rivea di Kranot, Ravina dice, mai rivea, rivea di Kranot, abbiamo adesso, abbiamo disegnato qui, gli angoli, così potete vedere meglio, cosa si tratta, che ogni quadrato, questo grande quadrato, comunque, quello che dice Ravashiamar, è che questi quadrati, in rosso, non importano la misura, sono sempre un quarto, di questi angoli, di questi angoli interi, è quello che dice Ravashiamar, è molto chiaro, molto semplice, che questi angoli, che sono gli angoli, della zona, non coltivata, la zona libera, sono sempre un quarto, di tutto l'angolo, incluso la zona coltivata, semplice, a me la Ravina, le Ravashiamar, è la Saviv Tiv, ci si chiede la Torah, Saviv, tutto intorno, e Ravashiamar dice, solo gli angoli, mai Saviv, Siv de Kranot, quello che intende la Torah, è, intorno, e si intende gli angoli, veramente anche per Ravashiamar, per Ravina, è un po' difficile, Ravishiamar ha detto, che sono solo, le zone aperte, vi ricordate, quello che Ravina ha detto, sono, sono queste parti qui, anche non è Saviv, veramente, quello che ha detto lui, anche non è esattamente Saviv, perciò risponde, Ravashiamar, come c'è scritto la Torah, direbbe, come dice, Ravina ha detto, e Ravina ha detto, il sangue, quando venivo a Saviv, l'olà, veniva messo, con le dita, solo all'angolo, però si spalmava il sangue, da due lati, I due lati diventavano quattro Spero che sia chiaro, no? Si spalmava il sangue solo in due angoli Però siccome si spalmava da ogni lato, di ogni angolo Perciò diventavano quattro pareti E questo è l'altro che chiama Sarev E siccome sono solo due angoli E se non Sarev allora Ravashi ha difeso bene la sua posizione Cioè, vedete, adesso vedete meglio Questi angoli qui, quadrati Perché noi abbiamo studiato Che anche se la città, questa è la città tonda Ma anche se la città è tonda Sempre la squadriamo La consideriamo che è quadrata Adesso questa zona Che c'ha mille amot di larghezza Tutto attorno Perde In questi angoletti Perde Del proprio spazio Allora è quello che chiede Com'è che si perde? Risponde Ravashi Ravashi non sapeva che lui intendeva una città tonda Dice Mata i culta Una città tonda Ma lui intendeva una città tonda Non sapeva che aveva capito Che è una città tonda Allora chiede Allora chiede Un momento Chavibi Mi chosna Ve a ribuà Ma l'hanno squadrata Anche se è tonda Hanno squadrato Allora nuovamente chiede Perde Questa zona qui Di mila amoti intorno Perde negli angoletti qui Allora Come si fa? Risponde Ravashi E' un'altra città tonda Che è una città tonda Che è una città tonda E' una città tonda E' una città tonda E' una città tonda Intendeva dire E' vero che Si squadra Ma normalmente Quando si squadra Già si guadagna Del fatto che si squadra E perciò Di quella zona Che si guadagna Quello che perde Quello che perdono Qui Lo guadagnano In quello che si squadra Questa è la prossima Ultima domanda Chiede Rav Hanilai Mi chosna Ravashi Mide Vediamo un po' Kamam rubaita Rai Gur Abbiamo studiato Che un quadrato E' più grande Di un cerchio Di un quarto Vuol dire Che se abbiamo un cerchio Qui abbiamo un cerchio Che è un raggio Di duemila mot Perciò Quanto c'ha Il diagonale? Duemila ottocento Perciò c'ha Ottocento in più Allora chiede Rav Khanilai Ma se diciamo Che un cerchio Scusi Un quadrato Di duemila Che sono 666 e due terzi Risponde Ravashi No Questo è solo Anni Mi ribè Gula Mi go Ribua Questo è solo Detto quando c'è Un cerchio Dentro un quadrato Quando c'è Il diametro Scusi Una diagonale Abbiamo bisogno di più Che esce di più Di mar mar Perché abbiamo studiato Un quadrato Un quadrato Un quadrato Ogni Amma Che Quando abbiamo Una Un lato Una Amma La diagonale E Due Quinti In più Cioè Il 40% In più Spero che tutto è chiaro Terminiamo qui Grazie Grazie Grazie